La mente e la penna dietro The Promised Neverland tornano in questo volume che raccoglie le loro storie brevi. Vedremo un geniale inventore che però è anche un Ikiko Mori e il desiderio dell'intelligenza artificiale che ha inserito in un tostapane, ovvero quella di avere un corpo umano per poter vedere il mondo e farsi degli amici. L'inquietante storia horror di un fotografo che riesce a catturare le immagini dei fantasmi nei luoghi dove sono morte delle persone. Quella sorprendente di un gangster ed una piccola orfana in una nazione dove da troppo tempo continua una violenta guerra civile. Quella fantascientifica della 14enne più perseguitata al mondo e la sua speciale guardia del corpo. E infine un breve episodio di The Promised Neverland ambientato dopo il finale della serie. Tutte le storie sono molto carine e se siete fan di questo duo non potete farvi sfuggire questo volume. Ciao a tutti e love manga!